Per la tua pubblicità con Gianni Elsner telefona allo 06 354 09 749 Federico, Federico, qui la musica è un po' particolare Ebbè, musica gitana Che è Goran Bregovic questo, vero? Questo è Bregovic, sì, sì La colonna sonora di underground Perché è particolare? Perché abbiamo messo questa musica? Diciamo così, vedete che poi ne parliamo una volta di underground Perché sarei curioso di sentire qualcuno che l'ha visto Vabbè, era un altro discorso Ma perché abbiamo messo questa musica? Perché? Perché probabilmente c'è qualche argomento attinente C'è qualche argomento attinente Alla zona dei Balcani Accanto a noi c'è una dottoressa Autrice anche Io già sto un po' in difficoltà Sì, infatti, vedremo del led tutto il tempo A me quando mi chiamano dottore lo fanno sempre per sbaglio Anche a te, purtroppo Speriamo Dottoressa va bene anche solamente nome e cognome? Nome e cognome, anche solo nome Perfetto No, diamo anche il cognome Giada Valdannini Autrice del libro Carovane tra le pagine Un libro che uscirà la prossima settimana Verrà presentato la prossima settimana addirittura al Campidoglio Addirittura La storia del popolo a Rom La loro migrazione dalla partenza dall'India Fino all'arrivo in Europa nel 400 Con una sezione antologica Insomma, con una parte di scritti proprio di autori Rom Che secondo me è utile a far conoscere Insomma, la loro cultura e la loro produzione Abbiamo invitato Giada proprio per questo Perché l'argomento è di per sé un po' particolare Nel senso che in una nazione come la nostra Con la popolazione come la nostra Che insomma, pensa ai vari Zingari Come ai vari Rom Come un popolo di delinquenti e basta Vedere poi una ragazza che fa un libro su di loro E parlandone poi bene, giusto? Sì Allora, spiegaci un po' come ti è nata l'idea Perché Allora, innanzitutto mi piacerebbe che passasse un concetto Nel senso che il termine Zingaro Può essere utilizzato liberamente Qualora non ci sia una forma di preclusione Nei loro confronti Però è un termine che ha un'accezione negativissima Calcola che nasce da un equivoco Nel senso che quando le carovane Rom Partono dall'India e arrivano a Bisanzio Vengono confuse con la setteretica degli Azzingani Che pratica la stregoneria Cosa che non era assolutamente propria dei Rom Quindi non erano stregoni Non erano stregoni Quindi da questa confusione che a Bisanzio viene fatta Nasce questo termine Azzingano Che nel corso dei secoli si modifica E nasce la parola Zingano Loro si definiscono con il termine Rom Che nella loro lingua romane Vuol dire semplicemente uomo Uomo libero Ed è un po' la loro concezione Insomma il loro modo di essere Si sentono privilegiati Anche se poi vivono in condizioni molto spesso di difficoltà Quindi hai appena detto che hanno anche una lingua Perché non è solamente un misto di dialetti C'è anche una lingua ufficiale Assolutamente E la cosa bella pensa Che questa lingua antichissima Che deriva dal sanscrito È una lingua che loro conoscono su tutto il pianeta Nel senso che se un Rom abruzzese incontra un Rom australiano Possono parlare tutti la stessa lingua Anche in Baresi Non c'è uno che fa Ci sono delle interferenze Ci sono delle interferenze dei dialetti dei singoli posti Però c'è questa lingua comune E il tratto secondo me più affascinante Che non avendo un luogo fisico Con cui identificarsi Hanno fatto della lingua la loro patria La loro terra Capisci? Quindi è un tratto identitario molto forte E perché ti è nata questa idea di fare un libro sui Rom? Allora è nata questa idea in un posto tra l'altro non lontano dalla radio All'interno del Santa Maria della Pietà, l'ex manicomio di provincia In un padiglione che oggi è occupato Perché c'è una mobilitazione di cittadini Che chiedono No, 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 da italiani Da Gagget, che vuol dire non Rom nella loro lingua Che chiedono l'utilizzo sociale e culturale di questo spazio Era lì che si è tenuto un festival di cultura Rom qualche anno fa Io ho partecipato con grande entusiasmo e curiosità Assolutamente non conoscendo quasi nulla di questo popolo Non capendo neanche le canzoni, diciamolo Assolutamente Assolutamente Cioè divertendomi sull'onda, sai Di queste musiche che sono travolgenti Un po' come questa appunto di Loren Bregovic Quindi quando sono tornata all'università Ho raccontato con entusiasmo questa esperienza al professore Che mi ha detto Beh, scrivimi un articolo, raccontami quello che hai visto E al momento della tesi mi ha detto Ma perché non fai un'indagine? Vedi se c'è qualcosa Cioè questo popolo c'ha una storia, c'ha una tradizione? Sì Cioè il fatto che siano stati migranti per secoli Non vuol dire che non abbiano una storia o una tradizione Una storia poi molto affascinante Piena di aneddoti, di dati particolari Per esempio il termine che ti dicevo prima Gagge Con cui loro chiamano noi È un termine che deriva dal fatto che Quando nell'anno 1000 loro sono dovuti andare via dall'India L'hanno dovuto fare perché sono stati perseguitati Da Muhammad al-Ghazni Questo conquistatore che ha messo a ferro e fuoco Per 27 anni queste tribù pacifiche Che si muovevano nell'India Perché erano degli artisti, salti in banchia E quindi da questo termine Ghasni È derivato il termine Gagge Con cui loro vedono noi Quindi capito Cioè siamo sì il popolo ospitante Tra virgolette Però nel corso dei secoli Ci siamo anche macchiati Insomma di crimine Tu quindi hai fatto quest'articolo Dove il professore ha detto Eh Curioso Vedo che ti interessa Curioso Ed è curioso E ha iniziato a pensare E ci siamo incuriositi Insomma E a livello accademico e fuori Poi è un tema molto controverso Insomma Io ogni volta che parlo di Rom E della loro cultura Della letteratura Perché hanno anche una letteratura scritta Tutti cominciano a farmi Come dire La lista dei furti Che sono stati fatti Nel loro quartiere Nemmeno fossi della questura Però io lo trovo comunque positivo Nel senso che Io preferisco parlare con persone Che sono scettiche Piuttosto che chi mi dice Sì sono bravissimi Sono perfetti Cioè Quindi avrai parlato tutti i giorni Cioè ore e ore Perché qui in Italia Sono solamente scettici Cioè sono poche le persone Che dicono Ah è Roma Brave persone E come no Lavorano, studiano E lavorano e studiano Anche molti di loro Adesso ci conferma anche questo Lavorano e studiano In che senso Nel senso che Il mio professore Santino Spinelli Insomma Una persona molto in gamba Il primo Ad avere una cattedra De lingue e letteratura romani Che sarebbe la cultura Rom E lui è un Rom Abruzzese Cresciuto chiedendole Lemosina Il Mengella Nella loro lingua E che poi Ha fatto strada Insomma Cioè allora È un Rom Che è cresciuto chiedendole Lemosina Esattamente E è diventato Professore Si è laureato e diventato professore Sì perché a Trieste sono molto avanti E come viene la lezione? Cioè nel senso Vestito normalmente? Lui viene vestito normalmente Con quel tocco di estro bizzarro Che è tipico di tutti i Rom Quindi magari giacche colorate Scarpe a punta Capelloni Per esempio Un altro luogo comune Io penso ai Rom Solamente non so Messi in situazioni disastrose Disaggiate Invece no Non è così Immagina che l'80% di loro Vive nelle case A cognomi italiani Come Spinelli Morelli Quindi noi Ignoriamo che loro siano Rom Poi magari dentro casa Parlano romane Quindi tu capisci che sono Rom Ma si vestono come noi Insomma con abiti Assolutamente europei Anzi I ragazzi che ho conosciuto Dei ragazzi molto in gamba Tra l'altro Qui a Vicolo Savini Vestono alla moda C'è un calendario Che è uscito Recentemente Di Stefani Gengotti Ah si che hanno fatto Il calendario Esattamente presentato Alla casa delle letterature In cui loro sono vestiti Proprio all'ultima moda Con abiti di grido Perché dicono Si noi siamo anche quelli Che hanno la tradizione Degli orecchini lunghi Bolerini Cappelli Però siamo anche ragazzi Che stanno cercando Di inserirsi E quindi studiano Lavorano Portano avanti La loro cultura Insegnano la loro lingua I loro figli E poi c'è anche chi Come ben sapete Naturalmente Sopravvive Attraverso furti Questo non si può dire di no Beh Che è poi una caratteristica Di qualsiasi popolo Nel senso In ogni Sì In ogni civiltà C'è Nel senso che Non è che Non si può distinguere Cioè In ogni popolo Io chiedo L'aiuto degli ascoltatori Allora 06 354 50482 Cioè Il vostro pensiero Pensando ad un rom Pensando ad un rom Cosa vi viene in mente? Cioè A me per esempio La maggior parte delle persone Pensano appunto Ad un delinquente Forse sono Sono Vabbè Sono un po' Diciamo Appassionato Da certi argomenti Mi incuriosisce moltissimo Il fatto che C'è anche Molta Che ci sia molta ignoranza Riguardo alle origini Dei rom Al fatto che Abbiano appunto Come diceva lei Un'identità Etnica Linguistica Quindi che siano anche Tra l'altro Geppo quindi Indeuropeo Quindi non sono poi Così distanti Da noi italiani Da noi europei Però io vorrei sapere Perché quando uno È sull'autobus Per esempio Entra un rom Tutti quanti a dire Occhio che c'è stato Al zingaro Occhio che c'è al zingaro Occhio al portafoglio Perché? Beh perché purtroppo Ci sono molti di loro Che Che hanno le mani lunghe Questo però succede Anche tra noi Che già Insomma tra noi italiani Romani Insomma che ci sia Chi sopravvive Cioè per esempio Tu sei andata a fare Le interviste Nei vari Io sono andata nei campi E non ti hanno rubato nulla Cioè registratore Penna Ti sei dovuta scrivere Poi senza foglio E tu dov'è? La cosa paradossale È proprio questa Che loro sono Dei popoli indiani Orientali Quindi votati Al culto dell'ospitalità E quindi quando io sono All'interno delle carovane Loro sono iper disponibili Quasi eccessivamente Ti mettono a disposizione Tutte Che ne so Prodotti di marca Per farti vedere Quanto loro Ci tengono alla tua presenza Quando stai lì Ti fanno mangiare Bere Quindi insomma Per me stessa Perché come dire Il mio primo contatto Devo dire che è stato Un contatto Nell'infanzia Perché io ero a Viterbo A casa di mia nonna Che abita in un quartiere Popolare E all'interno di queste case Popolari Insomma da qualche decennio Ci sono anche famiglie Rom Che prima avvitavano A Porta Foul Che è una zona Dove stavano Nelle grotte Fino agli anni 50 Più o meno E poi si sono inseriti Nel tessuto sociale Vivono nelle case Insomma come noi E mi ricordo Che al momento Della morte Di questo nonno Questo Michele Udorovic Arrivarono le carovane Da tutta Italia Perché comunque Per loro i vincoli Di parentela Non esiste il re La regina Il sovrano Non c'è una gerarchia Ci sono delle gerarchie Dettate dalla stima E dai rapporti di fiducia All'interno del gruppo Quindi non ci sono Cioè tipo il più anziano Diventa La guida da seguire Esattamente E quindi quando Appunto ci fu Il funerale di questa persona Io mi ricordo Ragazzina sulle scale Di questo palazzo E con l'arrivo Di tutte queste donne Che nonostante Insomma La giornata triste Sapevano reagire Con una positività Che poi rintraccia Appunto nei film Di Mirko Sturizza Cioè il fatto di Saper reagire Con il sorriso Anche alle avversità E quindi mi ricordo L'arrivo di queste carovane Con questi abiti Coloratissimi E da lì C'è stato L'altro giorno Parlavo con Il fotografo Taro D'Amico Che insomma Ha fotografato molto spesso I Rom E che sarà La presentazione del mio libro E che mi diceva Che c'è una certa Circolarità Una specie di fato Chi conosce i Rom Segue quasi un percorso Che li porta poi A ritornare Sul rapporto Con queste persone E loro ci credono E francamente Insomma io A forza di Di lavorare Sulle loro tematiche Sulle loro storie Perché poi me ne occupo Anche a livello giornalistico Tu hai passato tantissimo tempo Nelle carovane No? Ok? Frequentando le carovane Vedendo la popolazione No? I vari gruppi Quante sono le persone Che effettivamente Lavorano? Quante sono le persone Che effettivamente Ecco I ragazzi I bambini Che vanno a studiare Che vanno a scuola In percentuale Ma guarda Io Non per essere positiva Però dico Che un buon 60-70% Di loro Lavora E va a scuola Però il pomeriggio Dà una mano ai genitori Chiedendole lemosina Quindi vedi Fior fior di parrucchieri Perché poi sono molto estrosi Creativi Il mio parrucchiere È un ragazzo Di Vicolo Savini Ma dai Non ci direbbe Non ci direbbe Molto in gamba E però il pomeriggio Insomma Vivono con la carovana La sera ci sono Le notti meravigliose Intorno al fuoco A raccontare storie Perché la loro tradizione È prevalentemente orale Poi dagli anni 50 Qui in Italia Hanno cominciato a scrivere Però una buona percentuale Va a scuola Magari con un po' di ritardo Quindi fanno le medie Magari a 17 anni Però ce la stanno mettendo tutta È questo che mi piacerebbe Che passasse Chiedo agli ascoltatori Quanti sono le persone Che pensano Di essere state Derubate da Rom Perché molte persone Che quando subiscono un furto Anche se non sanno chi è stato Dicono è stato un Rom È stato uno zingaro No poi considera Che spesso c'è anche Un errore da parte Dei mezzi di comunicazione Che è un errore Secondo me gravissimo Ma che viene sempre passato Questo riferito Non solo ai Rom Ma in generale Agli stranieri Che vivono in Italia C'è L'attenzione Diversa E il modo diverso La terminologia diversa Che si utilizza Quando un delitto O un reato Di qualsiasi tipo Viene commesso Da un italiano O da un rumeno Faccio un esempio Per cui non si utilizza mai Italiano Ruba nel supermercato Ma si utilizza sempre Rumeno Ruba nel supermercato Tre marocchini Rapinano Cioè c'è un'identificazione Di tipo geografico Di tipo etnico Di tipo anche religioso Spesso Quando viene commesso Da altri Quando il delinquente Delinquente in Italia Come in Marocco Come in Romania Come se fa parte Di una carovana Rom Come se è un bancario Di via condotti Ecco In questo senso Io penso che dietro Comunque ci sia anche Una percentuale Cioè nel senso Vedere quanti sono I furti Durante l'anno E capire Da chi sono stati fatti E quindi Forse la percentuale Di furti effettuati Da Rom Ecco per esempio È così alta Che allora Ogni volta che Ne avviene un altro Si focalizza L'attenzione su di questo Cioè perché Si parla tantissimo Di ecco Gruppi di Rom Che cerchiano le persone Ne rubano Cioè Guarda Penso che Insomma qualcosa di reale Ci sia Sì assolutamente c'è Io non credo però Che il mio vicino di casa Sappia quali sono I tabulati della questura Sui furti Credo piuttosto Che sia Cioè una valutazione Abbastanza semplice Io abito a Prima Valle Quindi in un quartiere Che storicamente Come dire Un quartiere vivace Ecco Ma dai abiti a Prima Valle Perciò E un quartiere Che amo E che però Come dire È bollato Come i Rom Quanto meno Non è stato per tanto tempo A tal punto Che quando mi capita Di girare in altre zone Mi dicono Ma non sembra Che vieni da Prima Valle Io dico Perché scusa Noi che cosa C'abbiamo di diverso Dagli altri Però lì Che appunto Si diceva Gente che ruba Gente che vive Di espedienti Eccetera eccetera Cioè noi per toglierci Questa nomina Ce ne abbiamo messo Tantissimo di tempo E loro ugualmente Però ci hanno Come dire L'obiettivo puntato Quindi è chiaro Che se io Giada vado a rubare Un portafoglio È più difficile Che venga identificata Perché almeno Che non sono proprio Completamente rimbambita E mi faccio beccare Insomma non ho la nomina Di quella che va a rubare Un Rom C'ha l'obiettivo puntato Appena sale in metropolitana Ma la cosa bizzarra È stata che Per la presentazione Del mio libro Qualche amico Ha fatto Insomma la battuta Dicendomi Inserisci sull'invito Attenti al portafoglio Quindi Logicamente Dicci che insomma Anche proprio Tra le persone Più curiose Più empatiche Rispetto a questo popolo Vengono fuori Poi battute come queste Forse la cosa Forse la cosa che L'italiano Non accetta È il fatto Che ci siano tantissimi Centri appunto D'accoglienza Tantissimi Come possiamo chiamare Questi Dove Questi villaggi Costruiti appositamente Sì esatto Villaggi è il termine Un bel termine Sono campi Campi Però è un bel termine Villaggi Per i Rom Che hanno vita breve Nel senso che Si vede che poi Dopo poco O vengono distrutti Oppure Insomma Tornano ad uno stato Impraticabile Sì guarda Ti porto sempre Questo esempio Di Vicolo Savini Perché è uno tra I campi più grandi A Roma E lì ci sono qualcosa Come 900 persone Con un unico bagno Quindi immagina Che cosa Cioè le condizioni di vita Anche noi stessi Dice dagli e dagli Alla fine E poi comunque Anche il fatto Del Il concetto Di essere nomadi È tutto da rivedere Perché loro sono stati Innanzitutto Sempre nomadi Per costruzione Perché fino a che Se ne stavano in India Erano artisti Quindi come i nostri Artisti Cantanti Girano per le piazze Ma non è che Vengono chiamati nomadi Quando hanno cominciato A spostarsi È sempre perché Sono stati perseguitati E poi qui in Italia Sono arrivati nel 400 Quindi la mia famiglia La tua famiglia Forse è più di recente Insediamento rispetto alla loro Poi che si siano spostati Perché non hanno trovato Sempre ospitalità O il modo di attecchire È un altro paio di maniche Però sono Capito Sono qua dal 400 Io ho una domanda Una curiosità che ho E mi chiedo Visto che hai fatto Uno studio anche Però diciamo Su quello che è il Il background Si usa Però non mi piace Come parola Diciamo il retroterra Culturale Dei rom Mi chiedo Quanto il fatto Proprio di vivere Alla giornata Anche in certo senso Di essere costretti A vivere di espedienti Sia ormai Stratificato Proprio nella realtà Dei rom Sempre per costrizione Perché sono stati Costretti appunto A un termine carovana Del titolo del tuo libro Non penso sia casuale No Dico quanto Magari questa cosa Si è radicata Nel loro modo di pensare Nel loro modo di vivere Diciamo quasi In modo secolare Ormai Quasi sia una caratteristica Davica Allora E quanto non sia invece Determinata dal fatto Che in Italia Siano ancora emarginati Per certi punti di vista No Questo guarda Posso dire che Anche senza generalizzare Che comunque È un loro tratto costitutivo Cioè sono un popolo Che è abituato Comunque al movimento E quindi L'idea di saper vivere Alla giornata Di saper reagire Con il sorriso E con la furbizia Anche in condizioni terribili Questo li Insomma Li contraddistingue C'è una foto meravigliosa Di un fotografo Mio amico Che si chiama Stefano Montesi E che nel momento Di uno sgombero Di un campo A un certo punto Si vedono le scene di panico Le donne che strillano Perché gli vengono fatti Proprio questi ride La mattina presto E a un certo punto Uno tra i membri Più anziani del gruppo Che tira fuori La fisarmonica E comincia a suonare Con tutti i bambini intorno Quindi il panico Che si scioglie Attraverso la musica Cioè noi europei Saremmo stati a disperarci Loro si sono disperati Inizialmente E poi hanno reagito Con il sorriso L'accendo che facevi A Carovane tra le pagine Mi piace un po' dire Qual è la ragione Di questo titolo È perché comunque Le Carovane Rappresentano la migrazione E lo spostamento Appunto dall'India Fino a qui Passando per i Balcani E il concetto invece Tra le pagine È legato all'antologia Nel senso Sì sono un popolo Di migranti Ma sono anche un popolo Di letterati Di scrittori Di artisti Di musicisti Perché lo stesso Goran Bregovic Grande musicista Che io insomma Apprezzo particolarmente Però ha preso Insomma diciamo Rubato Ecco Dei Dei spartiti E adesso Nella seconda parte Ce ne parlerai Ci farei qualche esempio Però un'altra domanda Che in molti si fanno Perché Vanno in giro A chiedere L'elemosina E poi Ne vedi tantissimi Che vanno in giro Con il macchinone Non ci chiedo Alla scusa Il macchinone Perché poi portano Più persone insieme Non l'accetto Questa domanda Mi mette un po' In difficoltà Perché devo dirvela Proprio come la penso Ovvero Come dire Ci sono persone Tra di loro Che chiedono l'elemosina Perché non sanno Di cosa sopravvivere Altri che Con un po' Di spocchia Naturalmente Non sopravvivono Semplicemente Dei ricavi Del menghel Dell'elemosina Ma hanno Altre fonti di reddito Quindi non associerei Proprio direttamente Chi effettivamente Un po' Sfortunatamente Ti chiede l'elemosina A quello che c'è Il macchinone Ti faccio un esempio C'è una discoteca In Abruzzo Verso la zona di Avezzano Quelle parti lì Che si chiama La Duchessa Loro lì sono presentissimi Brava Bravissima Allora Le persone I ragazzi Di Avezzano Delle zone limitrofe Hanno paura Di andare a questa Questa discoteca La Duchessa Perché è totalmente Controllata da Rom Cioè ogni sera C'è veramente Ci sono veramente Gruppi che Fanno risse Scazzottate Accoltellate Perché C'è il gruppo di Rom Che lì Poche parole Si Comanda il tutto Beh guarda Io Come dire Sono Una studiosa Una cultrice Della loro cultura Ma anche molto Una persona molto razionale Il trasporto che ho Verso la loro cultura Non vuol dire Che sia bendata E quindi atti come questi Li condanno Come condannerei chiunque Vado a fare risse In giro per i locali Che non sono solamente loro Ci sono anche Romani Italiani Anzi soprattutto Che vanno in giro A fare risse Ma poi in generale Credo Cioè la delinquenza Attecchisce anche là Dove c'è più Bisogno anche di arrivare Al guadagno Di sopravvivere Cioè Quando si parla anche Di problemi legati Per esempio All'immigrazione Clandestina È ovvio che Adesso faccio un discorso Molto in generale Però per esempio Un grosso smerciatore Di sostanze stupefacenti Trova più facilmente Terreno fertile In immigrati clandestini Di qualsiasi nazionalità O in persone appunto Che vivono in Italia Quindi come i Roma Che non sono immigrati clandestini Magari Ma che costretti Da situazioni di indigenza Vivono anche a volte Nell'illegalità È più facile Trovare terreno fertile Lì per la malavita Che non In situazioni Di maggior benessere Vi faccio un esempio Legato alla cronaca E qualche tempo fa Stavo scrivendo Un pezzo per un quotidiano Per cui scrivo E arriva la segnalazione Dall'agenzia di stampa Quindi insomma Teoricamente Dovrebbe essere formata Da giornalisti Che indagano Quanto meno Cercano di verificare Certo E che dice Capo Rom Vende bambina A un gruppo di rumeni Allora io dico Siccome era una notizia Un po' pesante Io occupandomi di cultura Rom Dico sai Fare un articolo Con questo taglio Mi mette un po' In imbarazzo Allora comincio a fare Una serie di verifiche Tra operatori sociali Gente del comune Assessoria E alla fine vengo A scoprire questo Nel giro di un pomeriggio Per farti capire Quanto la stampa Delle volte Di informazioni sbagliate Che invece era successo Esattamente il contrario Due giovani rumeni Ragazzi di cittadinanza rumena Quindi non rom Rumeni Avevano provato a vendere La loro bimba Neonata Perché molto poveri Il capo Carovana Che aveva fatto Aveva fatto finta Di essere disponibile In modo che questa ragazzina Gli fosse data E poi ha avvertito Gli operatori sociali Del comune Ha detto Qui c'è una ragazzina I rumeni Stanno tentando di vendersela Cioè non li condannate Perché sono veramente sfortunati Sono poveri Però datele una mano Il messaggio che è passato Sulla stampa Qual era? Esattamente il contrario Cioè era Roma Che si vende dalla bambina Perché questo è un altro luogo comune Cioè nel senso Molti pensano Passa in Roma Attento alla bambina Prendila Perché altrimenti la portano via Che poi spesso c'è anche Questo magari ne parliamo anche dopo la pausa Perché è un argomento che va Ben affrontato Che spesso questa vicinanza Anche a volte a livello etnico A livello culturale Come lingua credo anche Per certi versi Avvicina spesso i romani Ad altri popoli balcanici Che magari hanno forte presenza a Roma Nelle loro nazioni Che poi pensa che la loro lingua Non c'entra niente Molto simile al Kashmiri Cioè alle lingue dell'India Alle lingue dell'India attuale Quindi come dire A livello di somiglianza È semplicemente perché noi Li abbiamo collegati con i Balcani Perché loro ci sono passati E sono molti di loro lì E anche quelli di più recente arrivo in Italia Vengono dai Balcani Però la loro lingua è di origine neo-indiana Sì che non c'entra niente Però mi fa piacere Mi fa piacere vedere che abbiamo Degli ascoltatori Che con una mentalità aperta Moderna Che nessuno ha una storia negativa Riferita appunto ai rom Nessuno ha una storia positiva Sì sì Mi fa piacere A tra poco Sei 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 la mia radio Sei Sei Che nessuno ha una storia positiva E poi Che nessuno ha una storia Grazie a tutti.